Sossio, allora Fonsi innanzitutto buonasera ancora, io sono una persona molto vera e vivace, io do un grande senso non mi toccare all'amicizia, a chi lo dici non mi toccare? No, è arrabbiato con me, a Valeria, scusami sto parlando, ok? Siccome l'altra volta è successo che mi sono trovato nelle situazioni di quelli che hanno scelto, io per l'amicizia che lega Valeria Marini alla mia compagna Ussua che dice che è la sua migliore amica, io l'ho salvata, quindi sinceramente stasera pensavo, visto che Alicia l'ha conosciuta in questo contesto, pensavo come minimo che ricambiassi il favore, però non c'è problema, se potessi io lascerei a me e lei stasera a Televoto, guarda ti giuro. Posso parlare, posso dire? E lo so, ma Sossio non puoi, adesso dato che Valeria l'ha già scelta Teresa Anna, tu mi devi cacciar con un altro nome. Alfonso posso dire una cosa? No, scusa Valeria, questo non è il momento tuo, è il momento di Sossio e di Teresa Anna. Ma io non l'ho scelto lui perché l'ho convinta che ti salvassero. Valeria scusa, non parlare, non costringimi a dirti di non parlare. Ok, 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 penso così.